Dopo la lunga pausa legata agli impegni della Nazionale torna il campionato di rugby di Serie A con l'Aquila che fa un passo decisivo verso la pool promozione. Vittoria netta dei Neroverdi che travolgono 54-7 il Paspa a Pesaro dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa dilagante. Diversi cambi messi in campo da Vincenzo Troiani e per Paolo Rottilio con quattro esordi assoluto. Il 15 Neroverde parte male con il Pesaro che si porta decisamente in avanti nei primi minuti dell'incontro. Ezecai Cortese, tra i migliori in campo, realizza dopo dieci minuti la prima delle sue tre mete personali. Gli risponde Campagnolo, solo tre giri di orologio più tardi. L'Aquila è imprecisa, in tusce e nel gioco alla mano, mentre il Pesaro si porta gambe e cuore avanti. Il primo tempo termina 14-7 in una partita aperta ed equilibrata. Nella ripresa diversi sono i cambi per l'Aquila e si è nata subito una diversa tenuta atletica tra le due squadre in campo. Al cinquantesimo Luca Cagliazzo marca meta sull'ala dopo una bella azione della linea d'attacco Neroverde, mentre cinque minuti più tardi Mattia Vaschi realizza la meta del bonus offensivo. La partita prosegue senza grandi guizzi e con una incessante pressione dei perdoni di casa. Due metri di Cortese, dell'esordiente Francesco Cozzi e del giovanissimo Flavio Fusco fissano il finale sul rotondo 54-7 in una ripresa in cui l'Aquila ha convinto tornando ai ritmi delle precedenti partite. Sconfitte e tanti rimpianti infine per la Gran Sasso Regmi, che dopo un primo tempo disastroso chiuso sul 20-0 sul campo del Benevento esce sconfitta per 25-20.